Due squadre che hanno nel mirino la Zora Europa League come obiettivo stagionale che sono alle prese con un tentativo di rivoluzione tecnica. All'Olimpico si prespetta comunque una partita divertente. Padroni di casa con Cataldi in cabina di regia e il ritorno di Luis Felipe e Acerbi in difesa. Ospiti privi di Nigo Gonzalez positivo al Covid. Alla fine dei primi 45 minuti le squadre sono tornate negli spogliatoi sullo 0 a 0. Al 52esimo Lazio in vantaggio 1 a 0 rete di Pedro. Milinkovic Savic scambia con Immobile e pesca poi Pedro che entra in aria e scarica sotto la traversa. Finisce all'Olimpico il gol di Pedro decide un match molto equilibrato. Vittoria pesante per la Lazio contro una buonissima fiorentina.